Siamo con il dottor Francesco Malatesta, chirurgo estetico, oggi parliamo di interventi per l'invecchiamento del viso, parliamo di chirurgia. Allora dottore, tutte le donne vorrebbero rimanere giovani e belle, però a volte è necessario fare qualche intervento, anzi in molte lo desiderano. Quali sono allora i metodi, le chirurgie? È un intervento sicuramente sempre più richiesto, anche se è cambiata un pochino la moda, se così si vuol dire, cioè la tendenza. Cosa vuol dire? Una volta si chiedevano grandissimi cambiamenti e magari con risultati non troppo gradevoli e naturali, oggigiorno invece si richiedono piccoli cambiamenti e piccoli passi indietro probabilmente, ma sempre all'interno della naturalezza del volto e fondamentalmente la gravità. Sappiamo che fa andare tutto verso il basso, anche la nostra pelle e il nostro sottocute, il nostro grasso tende ad andare verso il basso e quindi l'intervento che ritira fondamentalmente i tessuti in alto, quindi nient'altro che tirare i tessuti verso l'alto, nient'altro, però in realtà è un qualcosa di molto complesso, delicato e raffinato, che vuole una tecnica chirurgica precisa e dedicata al paziente, diciamo ritagliata, in modo da dare ad ognuno il suo intervento. Quanto tempo ci vuole per fare un lifting al viso? Operatorio? Sì, tempo operatori. I tempi operatori possono essere vari. Lifting è una parola diciamo un po' generica, nel senso che ci sono tanti tipi di lifting. Esiste il lifting, cosiddetto mini lifting, cosa vuol dire? Che si solleva soltanto una parte, spesso si parla di mini lifting quando trattiamo la parte temporale, al di sopra del sopracciglio, mentre si parla di lifting cervico-facciale completo, quando si parte dalla tempia e si arriva fino al collo compreso, quindi chiaramente i tempi possono andare da 40 minuti, un'ora, fino ad arrivare a un intervento di tre e passa ore. Senta dottore, c'è un'altra parte del viso che è molto trattata per quanto riguarda il lifting e sono gli occhi. La blefaroplastica va per la maggiore, perché? La blefaroplastica è quello che racchiude la chirurgia dello sguardo. Insomma, negli occhi sta la bellezza sicuramente, quindi sia la blefaroplastica superiore, cioè, vuol dire, togliere la pelle in più che abbiamo nella palpebra superiore, sia la blefaroplastica inferiore, vuol dire, togliere la pelle in più e anche le borse che abbiamo sotto gli occhi, è qualcosa di molto importante per il volto e spesso possiamo associarlo anche al lifting, cioè farlo nello stesso momento in cui facciamo il lifting, diciamo, come si dice, sfruttare l'occasione. Grazie. Grazie. Grazie.